Vediamo un attimo... ok. Ciao a tutti, io sono Sara Diakonamatata e questo è un altro appuntamento con le pillole di creatività. Oggi sono arrivati un po' di pannelli di idee per creare e quindi colgo l'occasione per mostrarveli tutti. Come sempre vi consigliamo di prendere nota dei codici scritti in ogni pannello non so se si vedono comunque eventualmente vi li diciamo di volta in volta che così li potete trovare direttamente scrivendo nella lente di ingrandimento sul nostro sito oppure scriverci su Whatsapp che così facciamo subito. Noi spediamo in tutta Italia 5,50€ e oltre 79€ è gratuita. Vi mostrerò dei pannelli di tre diverse dimensioni quindi ci sono da 2,50€ questi piccolini da 15€ questi grandi e da 7,50€ questi medi poi magari ve li apro così li vedete un attimino bene. direi di partire da quelli piccolini quelli da 2,50€ e abbiamo il PS029 il primo natale poi di questo genere qui c'è anche l'orsetto da solo ci sono diversi altri li trovate tutti comunque sul sito questi sono i pannelli mini di idee per creare questo è il PS071 con l'effetto cartoon poi abbiamo il Frosty con cui abbiamo realizzato anche un progettino l'anno scorso poi ci abbiamo ancora il PS072 che è l'Happy Holidays con i Babbi Natale questi pannellini qua basta ritagliarli anche lasciando il bianco e magari ci potreste fare una ghirlanda una cosa un centro tavolo e quant'altro poi abbiamo il presepe PS036 eccolo qua si vede ma? si mi sembra di si ok ditemi eh se non vedete se non sentite il PS073 è il Nativity che è appena tornato e con questo riuscite a fare 4 Natività con 2,50€ poi è tornata la Renna per chi ce l'aveva chiesta Dina e un'altra signora e questa qui praticamente avete la faccina le cornine e le zampette e poi le porte e finestre con questo riuscite a fare magari 4 porta panettoni 4 fermaporta e quant'altro perché le case le porte sono abbinate appunto alla finestra e infine per quelli di Natale da 2,50€ abbiamo il PS020 che è il villaggio innevato io adesso ve li faccio vedere tutti poi se avete domande le volete rivedere ditemi pure comunque la diretta rimane sempre salvata poi allora di quelli da 7,50€ intanto dimmi se ci sono domande saluti cose in un momento no ciao a tutti e allora il PM020 è questa bambolina praticamente riuscite a vestirla a vestirla tutta con le mutandine e così basterà poi mettere i vestiti e il PM036 è il vestito rosso con gli angeli quindi è questo qua riuscite poi ci saranno anche le spiegazioni anche su YouTube per creare appunto il vestito ci sono anche le spiegazioni scritte qua nel pannello poi questo è uno dei vostri preferiti è il Christmas House PM045 è questo qua quindi riuscite a fare il cappello ci potreste aggiungere delle lucette in led insomma questa qua è la scritta auguri anche questa è molto versatile la potete usare sia come fuori porta che come ghirlanda come paraspifferi rimane una scritta bella piena che volendo è massiccia insomma e questo è il PM029 auguri poi abbiamo il PM006 la Befanina che è appena tornata e quindi anche qua riuscite a vestirla completamente si chiama Gertrude poi questa è una vostra richiesta sono dei medaglioni con la base blu quindi è il PM039 ma i cristalli orsi con la base blu che magari è carino per chi non vuole fare il solito rosso è un bel blu intenso e rimane insomma molto molto carino questi sono da 7,50 euro questi medaglioni e ci sono otto pezzi in abbinamento c'è anche il kit in feltro che viene 7,50 euro e con cui potete rinforzare tutta la la base insomma degli otto pezzi questo è il PM033 il villaggio che è così quindi avete tutte le case innevate il vischio e quant'altro poi Ginetta saluta ciao Ginetta buongiorno buongiorno allora PM044 i medaglioni con gli angeli questi sono arrivati in questi giorni e già ne sono rimasti uno solo e con gli angioletti quindi riuscite a fare diverse palline poi sempre a modi medaglioni da 7,50 c'è il PM034 che è il villaggio con i medaglioni quindi simile al disegno del come si chiama di questo qua uno è con i cristalli esatto e uno è con la pallina e infine da 7,50 abbiamo questo qua che è sempre una pallina ma a base tortora quindi è medaglioni tortora PM049 che anche qui per chi non vuole insomma vedere il rosso vuole cambiare un po' vuole rimanere un po' sulle tonalità sciabbi abbiamo anche questo finisco con i pannelli più grandi questo è il pannello del villaggio è il P261 con questo ci riuscite a fare veramente tante cose perché ci sono tante casette tanti alberini potreste prendere del pannolenci e fare un pannolenci verde e fare degli alberini di altre dimensioni questo viene 15 e misurano 50x70 poi abbiamo ripreso su richiesta il babbo natale che è il P150 quindi questo rimane proprio la facciona del babbo natale così come la vedete c'è tutto il pannello completo poi questo è nuovo nuovo finito e ripreso è il P287 alberi villaggio con questo la nostra cliente Roberta ci ha fatto veramente tanti alberini anche perché sul retro volendo con del blu che tra l'altro si abbina bene anche ai cristalli quelli blu e potete mettere una tinta unita oppure un glitter bianco e ci fate 3 6 7 almeno 7 alberini rimane molto molto carino poi questo è proprio dall'ultima diretta abbiamo preso medaglioni e cristalli che è il P289 quindi qui è un mix di potete creare sia dei fori porta che delle decorazioni per l'albero qui anche per chi fa mercatini così è molto bello richiamo un po' la fantasia del villaggio innevato di Renkalik che sta andando sempre a Ruba e poi per le calze della Befana abbiamo il P252 che è il calze Angel che è quello neutro quindi con gli angioletti di diversi colori e dimensioni il P251 che è con i coniglietti un po' shabby un po' vintage diciamo che è le calze di lana e infine questo è il P159 con le calze da 30 cm quindi avete 6 calze assortite da 30 cm con cui fare appunto dei doni oppure a modo di decorazione ok ragazzi noi per qualsiasi informazione trovate il numero su whatsapp su qua in alto il nostro numero è 349 46 56 229 oppure potete visitare il nostro sito merceria hm.it poi tra poco vi pubblico anche le foto un po' più nel dettaglio e per qualsiasi informazione siamo sempre a disposizione grazie a presto e buona giornata